adesso tempo che carica eccoci qui una buona sera a tutti da VRG virtual racing group siamo pronti per partire col campionato nuovo campionato di formula 1 categoria entry level organizzato da virtual racing group con me io sono Prestige nella mia regia c'è Gabriele Bosi ciao a tutti buonasera tra un po' arriverà anche Mario Fara che ci dovrebbe dare manforte esatto come dicevi tu questa sera inizia la categoria entry level la categoria di ingresso entry level giusto per la simulazione delle formula 1 abbiamo tanti piloti nuovi alcuni piloti che sono delle vecchie conoscenze per noi di VRG tipo AX89 Iniz poi abbiamo il Pentle che aveva fatto già due anni fa un entry level abbiamo Mauro che è un un pilota sia di formula 1 che di che di gran turismo quindi direi che sulla carta si prospetta un bel campionato bello folto e bello ricco esattamente poi abbiamo tanti piloti nuovi che saranno nuovi per un po' di regi ma probabilmente dietro qualcuno di loro si nasconde qualche pilota navigato che ma regali viene da eh avremo tempo e modo per conoscerti bene visto che il campionato è molto lungo sono 15 gare quindi avevo modo di conoscerli ecco e loro avranno modo di mettersi in mostra perché comunque i punti in palio sono tanti sono tanti piloti e ci sarebbero tutti i pochi convoggiati di che spero di con un po' di cercare di dire all'accordo io sono tanti che vogliamo con un caso dei milioni dei milioni dei milioni dove sono quella volta zio dei vetri e tutti i sospettati Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dovrebbe prendere almeno 5 minuti alle qualifiche, quindi ecco vedo adesso 3 minuti alle qualifiche, si stanno ancora scaldando i piloti. Intanto stiamo cercando di risolvere alcuni problemi di audio che mi comunicano. E' il bello della diretta. Grazie a tutti. Per i nostri telespettatori, così da dare una preview, quello che ci aspetterà questa sera. Il circuito piuttosto piatto, diciamo che è un misto tra... Io oserei dire quasi cittadino per quanto riguarda i muri, insomma non è una pista facile, sicuramente c'erano pochi spazi per i sorpassi. Dove i prodotti devono essere molto attenti ai cordoli che sono piuttosto alti. Io ho visto anche in prove libere qualcuno andare sul cordolo e non riuscire più a uscire. Ancora più scariche, vedremo, insomma è un incomido un po' per tutti noi, questi nuovi piloti ci mostrano un po'. Intanto diamo il benvenuto a Mario che finalmente ci ha raggiunto in cabina di regia. Mario benvenuto. Ciao grazie, buonasera a tutti. Ciao Mario, salvaci. Stavamo descrivendo un attimo, visto che sono in procinto, di partire con le qualifiche il circuito australiano, come diceva bene Fabio, un circuito cittadino dove in alcuni punti i muri possono creare qualche problema. E soprattutto in curva 4, quell'anti-cut che è molto pericoloso se centrato, perché si rischia veramente di finire la gara lì, appesi al cordolo. Intanto vediamo i primi piloti che cercano di usare un po' troppo, sono ancora liberi per fortuna. C'è tanta attesa, sicuramente tanta attesa per questa gara, anche da parte dei piloti. Beh, la prima gara è sempre la prima gara, anche per i piloti più esperti come te Fabio, perché sulle spalle tu hai parecchi chilometri. Comunque la prima gara è sempre un fascino particolare, come il primo giorno di scuola, non si vede l'ora di iniziare. Beh, beh, sì, 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 infatti. Detto da uno che ha appena vinto il campionato GTC, il GT1, no, 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 è un grosso complimento. Ieri sera abbiamo fatto tardi nel box del Marlboro Team per festeggiare, ovviamente. Eh sì, perché signori dovete sapere che Gabriele Bosi ieri sera ha vinto meritatamente il titolo di campionato del GT1. Si è corso a Imola, gara endurance, super endurance, si è corso sia di giorno che di notte, gara molto lunga, sfremante. Molto lunga, molto dura e molto bella, anzi colgo l'occasione per fare i complimenti a Simo per la bellissima vittoria e la bellissima gara. Io sono stato fortunato a vincere il campionato e insieme a Mario e a Ale siamo riusciti a portare a casa anche il titolo costruttore, quindi direi anno assolutamente positivo. Bene, direi che manca poco, ormai siamo tutti pronti, i peloti sono tutti dentro del box, stanno preparando le ultime strategie, gli ultimi assetti. Sì, adesso c'è una specie di briefing dove la direzione gara dà gli ultimi consigli e gli ultimi accorgimenti ai vari piloti. Io ne approfitterei per fare una rapida carrellata dei vari team di quest'anno perché... Bene, bene, vai. Allora in Rob Bull abbiamo Ice Rider e Dome F1, se sono tutti e due presenti. In McLaren abbiamo Brubla 79 e Axe 89, mentre in Scuderia Ferrari abbiamo due vecchie conoscenze, Giangis, Mauro, SV, per gli amici Mauro semplicemente. In Mercedes abbiamo una new entry, Andreius Chirus, mi scuso già per la pronuncia, Amlet 80. In Lotus, vestito di nero e oro, abbiamo Roberto Sara e Corigliazzo, non so se sono presenti entrambi, io Corigliazzo mi sembra di non averlo detto. Vedo Roberto Sara, sì, Corigliazzo. Ok, in Forosindia abbiamo Emanuele Bracciani, in Sauber Omar, in Scuderia Toro Rosso, Gianni 87 e Max 76. Tutti e due presenti. In Williams abbiamo Guglia e Biniz, Biniz ricordiamo che aveva fatto il campionato Advance l'anno scorso, quindi potrebbe essere un pilota che quest'anno riuscirà a mettere a frutto l'esperienza passata. In Caterham abbiamo Pieopa, in HRT Pentle e infine in Marussia Brian. Quindi direi che la quantità di piloti in pista è sufficiente per regalarci delle belle emozioni, quindi speriamo che tutto si svolga nel migliore dei modi, soprattutto la partenza, che sappiamo essere il punto cruciale. Bene, intanto mi arrivano comunicazioni che l'audio è sempre risolto. Siamo tutti pronti, aspettiamo che la direzione gara dia il via e partiamo con questo nuovo campionato. Penso ne vedremo del bene, ci divertiremo abbastanza a seguire questo campionato. Campionato ricordo organizzato da Virtual Racing Group, per chi volesse venire a trovarci. Il nostro sito è www.virtualraisinggroup.net Organizziamo campionati Formula 1, ruote coperte e di tanto in tanto facciamo anche qualche evento così particolare, evento speciale. Ce n'hai per tutti i gusti, insomma. Ecco, infatti, ci sicuramente deve divertirsi. Bene, manca poco. Fabio, se dovessi puntare su qualcuno per la pole, su chi punteresti un euro? Ma io vedo bene Max, sull'autorosso. Poi magari arriverà qualcuno che ci smentirà, secondo che si nasconde ancora, non so. Vedo molto bene Max, sicuramente. Beh, ricordiamo che la pole in advance è stata di 1.25.303 di Tonic, quindi avremo anche questo termine di paragone. Ricordiamo che in Entry Devil possono essere attivi diversi aiuti, tra cui il controllo di trazione e l'ABS, quindi potrebbero dare un vantaggio in più ai piloti. Bene, io intanto perdo un po' di tempo perché sto cercando di sistemare il mio audio, per lo che adesso vada bene, e dovremmo essere pronti. Aspettiamo la direzione gara che dà il via, e partiremo per questo primo appuntamento della stagione. Si ricorda che corriamo ad Albert Park, circuito in Australia, circuito insidioso, cittadino, pieno di muri e cordoli alti. Quindi occhio, attenzione. Siamo pronti. Casco allacciato. Casco allacciato, cintura allacciate. Adrenalina a mille. Eh sì, questi momenti sono quelli più stressanti, perché è inattesa e non si vede ora di... di far vedere quanto ci si è preparati, magari nell'arco delle due settimane precedenti, e di smaltire un po' lo stress e l'adrenalina durante la gara. Sì, poi è partita la gara, proprio le prime curve, si riesce a scaricare un pochino. Speriamo una buona partenza. La prima curva subito a destra, insidiosissima. Eh sì, perché è una curva medio-veloce, che non permette molti inserimenti, cioè si passa uno massimo due alla volta. Passaggio obbligato, quasi in fila indiana. Eh sì. È molto insidiosa anche la seconda curva, che è una grossa staccata, si passa dalla sesta, settima, alla prima, e lì potremmo già vedere degli attacchi. E anche lì, purtroppo, da lì in poi si passa uno per volta. Quindi i piloti dovranno stare molto attenti a come inserirsi, a calcolare bene le distanze. Sarà bello vederli all'opera, perché dovranno calcolare che i primi giri ci saranno le gomme freddi, i freni freddi. Vedremo, vedremo. Intanto ci arriva la comunicazione dalla direzione gara, a quanto pare Guglia è quasi pronto a scendere in pista, stiamo aspettando lui, probabilmente avrà problemi al casco, o tutto, insomma, è lì, stiamo aspettando, è la prima, dai, un po' di tolleranza. Ci può stare, ci può stare. Ecco, magari ricordiamo le modalità della qualifica in VRG, come vengono svolte, Fabio? Sì, sì, certo. Mario, vicina tua. Allora, per quanto riguarda le qualifiche si possono fare un numero massimo di giri, che sono 12, entro i quali appunto il pilota deve cercare di realizzare il miglior tempo. Ricordiamo che 12 giri, compreso giro di lancio e giro di rientro, è importantissimo. Esatto, esatto. Pena, come è successo l'anno scorso, anche al sottoscritto, vedersi annullare qualsiasi tempo e partire dall'ultima posizione in griglia. Eh, l'esperienza fa tanto. L'esperienza, secondo me, può essere la carta vincente per stasera. Quindi, piloti un pochettino più maturi, come Mauro, come Giangis, Ax89, che comunque ha provato a girare, a fare alcuni giri l'anno scorso, che è sicuramente un pilota capace. Lo stesso Binis, che pur non avendo fatto delle ottime prestazioni l'anno scorso, ha comunque macinato chilometri, quindi sa già cosa ci si può aspettare stando in pista. Bene, intanto Google è arrivato. Sì, credo che ci dovrebbero partire le qualifiche. Sì, ormai manca poco, siamo tutti lì. I piloti scout sono rientrati nel frattempo quelli che continuano a girare libera. Siamo qui, tutti in trepida attesa. Mario, chi scommetti? Io vedrei bene anche Ax89. Perché dalle prove prequalifica. Ma poi comunque è un prota che ha già accorto diversi campionati, quindi sicuramente l'esperienza non gli manca. È anche abbastanza veloce e in gara abbastanza affidabile, per cui io onestamente mi aspetto una grande prestazione. Sì, onestamente sono molti piloti in mezzo, quindi è tutta una sorpresa oggi. Eh beh sì, questa gara serve proprio a scoprire chi si è nascosto fino adesso, chi ha fatto pretattica. Ma oltre alla pretattica vabbè, adesso non è pochissimo alle qualifiche. È una cosa molto importante che anche chi farà la poll in ottimo tempo dovrà dimostrare una certa consistenza in gara, perché è una gara a punto di un giro solo. Quindi è importante anche avere un'ottima gestione e visione della gara. Mario, se riesci ad alzare un po' il tuo volume perché ti sentiamo un po' bassinio. Un po' cupo, più che altro. Anche perché ci tengo ai commenti del mio compagno di squadra perché di solito è un ottimamente, un ottimo osservatore, quindi perdersi dei commenti di Mario potrebbe essere cruciale durante la gara. Devo dire anche molto tecnico nei suoi commenti. È abbastanza... Mario è molto preparato. Mario è molto preparato. E direi che ci siamo, dai. Ormai siamo lì. I piloti non riusciamo più a tornerli. La direzione gara deve sbrigarsi altrimenti quelli si scappano. Vabbè, la prima gara come è successo in Advance c'è sempre un po' di ritardo cronico. Ci sono alcuni piloti per il quale è la prima esperienza come gare multiplayer. Quindi alcuni piloti che magari non sono bene avvezzi all'uso di Air Factor. Quindi è normale che ci sia un po' di ritardo. Comunque sono le ultime raccomandazioni. Dovremmo esserci. Comunque stavi dicendo prima Mario della differenza tra il tempo in qualifica e il tempo in gara. Sì, ovviamente cambia completamente in quanto va bene. Qualifiche ovviamente si fanno con la macchina scarica. si parte con il pieno per cui come dicevi anche poco fa tra tutti i primi giri quindi gomme fredde freni freddi bisogna stare attenti alle accelerazioni. C'erano pronti? Ecco. Siamo passati in qualifica vediamo chi sarà il primo ad uscire in pista motori che si accendono eccoli qui dome quattro rosso per Red Bull scusatemi. Il primo a scendere in pista è Ax che ovviamente attendono la pitlane in santo foro verde. Subito in abitato il voluto. Ok possiamo andare il circuito libero stanno uscendo subito all'inizio delle qualifiche per ora i piloti scesi in pista sono Ax Pentler BMW Bini Massa P6 Andrei Intanto vediamo che abbiamo subito un problema Max 76 non riesce a scendere in pista probabilmente ha un problema tecnico lo abbiamo risolvano che se a questo punto la vedo dura perché il tempo di espressione è proprio loro abbiamo solo 20 minuti Adesso il pilota che si trova a pista libera davanti è Ax perché si sta creando un bel trenino bisognerà anche fare attenti agli spazi che si debbano lasciare tra un pilota e l'altro perché sennò si rischia di bruciarsi un giro cronometrato il che non è mai bello quando si hanno 12 giri a disposizione in questa stanza abbiamo tutti i piloti in pista ad eccezione di Ice Router parecchio traffico c'è parecchio traffico bene Ax si sta lanciando proprio in questo momento vediamo se la scommessa di Mario sarà vincente sicuramente io l'ho persa perché Max 76 non è entrato in pista ha un problema quindi ma io Fabio è in pista ma la 76 l'unico che non è sceso in pista è Ice Router ok ma io leggo che è escluso dalla qualifica o dalla gara no non so è un problema tecnico ma non tanto ma speriamo bene dai magari è una posizione intanto seguiamo Ax la 29 intermedio non è male non è male nel primo giro quindi ricordiamo che le gomme danno il loro meglio al secondo giro cronometrato perché infatti per adesso sono passati i pentoli ad un F1 Max mantiene ancora il primato nel primo intermedio 23.4 al secondo anche questo è un buon secondo intermedio aspettiamo al fine del giro di Ax adesso ho 23 3 pentle e mi sa che saranno loro due secondo me a giocarsela un po' perché conoscono il tracciato un po' per l'esperienza arriva sul treguardo 126 361 per Ax si non è un buon tempo però è il primo giro quindi ci potrebbe stare si deve scendere si deve scendere mentre sopra i decimi la tensione fa cremare le mani e i piedi soprattutto il tempo è stato staccolato da va bene quindi per quello credo non è riuscito a realizzare il suo conto terzo tempo per Max 86 1,27 3,83 seguito da Andrè è entrata sono tempi altissimi per la qualifica tempi altissimi sì potrebbe approfittarne veramente Ax perché in questo momento è l'unico da dove sta libero davanti Roberto Salas e Renato sulla sabbia ecco anche se ci sono parecchi piloti in pista potremmo provare uscita bene seguiamo un po' il pilota del Toro Rosso che sono al terzo posto Max 56 che viene solo passato da Brian in questo momento da Brian esatto ottimo Brian 27 078 troppi piloti in pista Ax ha trovato traffico e ha bruciato un giro alla limita su quella curva a 76 ecco che realizza un 26 570 si porta sopra due decimi in tempo di Ax bene bene Max si migliora due decimi sotto al suo tempo 1 27 141 ma non riesce a guadagnare la posizione si trova ancora al quarto posto solo 4 piloti sotto 1,28 in questo momento e sono Ax 89 1,26 3,26 1,26 1,26 5,70 balaia 1,27 0,78 guardiamo Max 6,26 1,27 141 quinto posto andrillo schius sesto vini settimo i cellulite poi l'ottavo posto donna F1 seguito la blubb 79 Omar Brasciani Amoleto Mauro Guvia e Piopa Roberto Sala Gianni e chiude l'ultimo posto Giangis ma ricordiamo che Gianni 87 Giangis ancora non hanno tempo forse un errore vedo segnati 4 giri per Giangis ma nessun tempo eccolo qua veramente Giangis non è meglio perché mi dà 2 giri segnati addirittura 4 ma senza tempo quindi probabilmente è uscito si era lanciato e l'ho dovuto rientrare l'unica spiegazione è quella c'è parecchio traffico in pista le macchine comunque sono molto molto vicine perché se il pilota che davanti a te sbaglia ovviamente condiziona anche esatto un altro aspetto comunque credo importante soprattutto per questi nuovi piloti che si affacciano per la prima volta in questo mondo e magari anche di saper gestire l'emozione ecco della presa per cui ovviamente una cosa sono l'ho preso durante la settimana è una cosa aprire la qualifica ufficiale tanto pentri si sta lanciando per la sua seconda sessione di giri lanciati e se va adesso il quinto giro vediamo un po' come come andrà in questo in questo istante ecco max dietro a bimis adattato per cui difficilmente riuscirà a migliorare la sua prestazione quando si dice che l'importante non è solo andare veloci ma usare anche la testa in gara è proprio questo il motivo magari lasciare un pochettino più di spazio calcolare un po' di spazio per il giro che mi ha entrato in maniera da non essere rallentati ecco giangis finalmente riesce a fare un tempo 1.29 1.74 funziona all'oggi e si funziona beh direi da notare che comunque bimis pur facendo un po' da tappo a max sta avendo ottava posizione che non è affatto male quindi complimenti a lui si sta comportando in maniera egregia questa sera max continua a mantenere per adesso il miglior tempo con 1.26 3 vita 2.10 quindi a pente con 26.5 passa in questo momento sul traguardo cerca di spruzzare la scia adesso in po' position 1.26 183 2.26 ok qui arrivo un po' lungo da portire questo giro peccato 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 scusami gabbro si è lanciato in ovviamente anche ax e qui vogliamo vedere ax andiamo a vedere ax mclaren per lui dragon mi piace ancora i boss andiamo a on board con la c***a arrivando alla variante più veloce di tutto il campionato una variante sinistra-destra la quarta quinta molto impegnativa più che si postulisce il giro qui in altri due punti principalmente ma questa è che non va a lentare una buona uscita per mettere una buona uscita di punta alla fine di questo rettilineo dove inizio questo tutto remisto con due curva destra in appoggio è una variante lenta molto lenta la prima una sinistra-destra che poi ci rimetterà sul circuito sul rettilineo peccato 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 perché allora il più migliore intervento uno secondo vediamo se riuscirà no, si migliora si migliora allo giornalmente si migliora di venticentesi eh, però è un secondo giro in pratica che si può ottenere il giorno sì, dove c'ha altro infatti fine sessione tra dieci minuti ecco l'accordo come hai detto il futuro non rimane in strada ma non farei più se c'è una maniera davanti il momento funziona in tre per gli Aps e Brian sì, sì Max, in questo momento rischia tantissimo il futuro per cui il pilota si accorge ti toglie dalla strada ma tu vedi interventi Gabriele come hai messo? e Aps ha fatto segnare il miglior secondo intertempo 23.1 ha fatto il suo miglior in intertempo con 29.1 non è il miglior in assoluto ma è il suo miglior ha stampato un 23.1 nel secondo settore e adesso se non commette errori entra benissimo la cura di scia potrebbe esserci insomma come si sta con la scelta di scia quindi potrebbe potrebbe eccolo qua 25.9 1.25.958 e penso che questa sarà la pole beh, allora e ancora 4 giri quindi ho una sessione di giri lanciati a poter sfruttare bravi hanno fatto stranamente solo 4 giri ci sono pochi piloti con più di 7-8 giri probabilmente molti hanno abortito per il traffico hanno preferito magari aspettare che la situazione si tranquillizzasse un po' diciamo uno di questi è Max 86 che stiamo seguendo Max è lancato quindi secondo me è convinto di avere nel piede un tempo più basso magari anche un 25.5 che lo porterebbe in maniera più tranquilla di sicuro in prima fila e molto probabilmente in pole e Brian ferma i box si in questo momento tra i primi Max lo dico che sta girando ecco adesso mancano 7 minuti e mezzo calcolando il giro di lancio i due giri lanciati stiamo parlando di 4 minuti abbondanti niente Max non riesce a migliorarsi si aspettassero gli ultimi 5 minuti per lanciarsi bene ritorniamo macchina con Ax Andreio sta segnando il suo miglior primo intermedio quindi magari seguiamolo magari andare a impensierire Max secondo me per tempo per Andreio per noi ormai è diventato Andreio poi ci faremo spiegare la sua pronuncia credo si dica Andreio Schindler ah ok vediamo perché potrebbe essere un bel giro no no non si migliora potrebbe essere Max ha fatto segnare il suo migliore intermedio Max in questo momento lo do fermo io Ax credo sia il suo ultimo giro buono poi non ha qualche giro a disposizione parecchie piloti in questo momento Gianni Gianni sta facendo un ottimo un ottimo tempo è migliorato sia nel primo che nel secondo settore l'ultimo tentativo di Ax ah peccato sbaglia l'ingresso nella variante l'entere l'unico presentativo per Gianni su è caso è caso è caso Roberto Sala che viaggia due tre decimi più lento di lui quindi se è fortunato non sarà un problema abbiamo prevamente pieta fermo verde pizza sicuramente problemi allora Ax non si migliora suo tempo rimane 1 25 9 5 8 5 minuti alla fine delle qualifiche Ax ha finito i suoi i suoi giri mentre Pentle da buon vecchio furbastro ancora 4 giri pieni da sfruttare intanto stranamente scusate stranamente Brian Romano Bocca nonostante abbia fatto solamente 4 giri per cui sono delle situazioni un po' strane effettivamente evidentemente aveva puntato tutto per la gara è difficile fare un po' giro con le montagne per me sono per il chibirato in fila magari partire la prima fila si dà qualcosa in più allora io tengo sott'occhio coi tempi Pentle ma Fabio magari vai a prendere Brubla 79 perché ha segnato i suoi due milioni intermedi nel primo e nel secondo settore eccolo qui con l'altra mia clave anche Andrejus sta stabilizzando questo momento è al dodicesimo posto eccolo vediamo se potrebbe addirittura andare ad attaccare Brian perché da quello che vede arriva lungo giro perso e infatti infatti un buonissimo 26 e 6 aver fatto solo 4 giri non ha pagato Brian dovevi lasci nella sveglia c'è ancora fermo lì i box evidentemente si accontenta prima non ha esordiente io credo e spero che magari abbia avuto dei problemi e quindi abbia abbandonato un attimino la postazione perché non sfruttare 12 giri è un pochettino contro 3 minuti alla fine della sessione abbiamo anche il max il 76 che sta credo effettuando il suo ultimo tentativo Gianni esatto scusami Gianni esaurito di chi gira a disposizione e consolida la sua sessione e comunque ha un buon sesto posto per Gianni davanti alla prima Ferrari di Giangis che è stato in settima piazzola poi abbiamo Aris con la Red Bull nono Roberto Scala Binis riesce a entrare nella top ten decimo tempo per lui 1-28 2-3-1 Pentler a meno che non abbia fatto un secondo settore straordinario e sopra vediamo a seguire Pentler la HRT è andato salito un po' troppo annulla il suo giro anche perché ormai nullo verrebbe annullato in ogni caso dalla direzione gara il controllo viene considerato pista e questo penso sia l'ultimo tentativo per esempio forse ancora un altro giro è proprio questo è proprio questo infatti adesso sto guardando intanto abbiamo l'ultimo minuto di qualifica a meno di clamorose che sto a vediamo quando si aggiorna il live timing riusciremo a capire il suo è alto è più alto del suo primo intermedio 29-2 altro errore no è alto è alto sì è alto credo che a questo punto forse l'unico dubla che arriva in questo momento non si migliora no c'è fuori anche un leto 80 ma anche lui è alto quindi sì non ci aspettiamo più variazioni nella classifica Max potrebbe potrebbe perché il condizionale che non scatta la bandiera scacchi è d'obbligo sessione finita un buon lavoro bene in questo momento sono finite le qualifiche Max è giudica la prima pole della stagione con 1.25 e 958 beh un tempo direi dignitoso che ne dite? ma la prima gara sì vuol dire un buon tempo sicuramente l'unico a scendere sotto il muro dell'1.26 si aggiudica la pole la prima pole della stagione qui ad Albert Path circuit con 1.25 9.58 secondo posto accanto a lui in prima fila troviamo Pentel con l'HRT 1.26 183 terza persona di Andrèo Schius scusate la mia pronuncia faremo un po' fatica a dire questo nome comunque 1.26 mi hanno aggiornato i tempi 1.26 660 660 perfetto Brian conclude quarta posizione con 1.26 766 qua abbiamo Max Max 76 con 1.27 123 Gianni 87 con la seconda Torra Rosso con 1.27 4 quindi quasi preannuncia una lotta una lotta interna Gianjis con la prima delle due Ferrari con 1.27 9 Ice Writer sulla Red Bull 1.27 9 187 quindi vicinissimo a Gianjis Roberto Sala 1.28 0.63 Binitz 1.28 231 Dome F1 con la seconda Red Bull 1.28 6.03 Rubla 79 1.28 870 Omar sulla Sauber 1.29 185 Emanuele Bracciani con la prima della Forza India 1.29 599 il nostro Mauro con la seconda Ferrari 1.29 671 Guglia su Williams 1.30 229 e Peopa Caterham 1.30 731 Scusate Scusate Gabri praticamente dalla direzione gara stanno comunicando che ci sono delle penalità Ah quindi la classifica sarà aggiornata Stavo notando una cosa molto interessante che pur essendo i tempi un po' più alti rispetto all'advance ma come era normale immaginarsi sono tempi vicini però non c'era un abisso tra il primo e il secondo Sì abbastanza libertato quindi potrebbe potrebbe esserci una una gara divertente Comunque le penalità sono per taglio della linea bianca Amleto e Guglia e invece per aver chattato durante la qualifica viene penalizzato di due posizioni a svarto infatti avevo visto durante la qualifica una richiesta di aiuto da parte del pilota però come il regolamento dice è vietato qualsiasi uso della chat sia in qualifica che in gara la chat è aperta solamente nella sessione di pratica e nella sessione di warm up adesso appunto è iniziato il warm up dove i piloti hanno dei giri di riscaldamento in a sette gara e raccomando caricate la benzina tanta benzina il vincitore della scommessa pre gara è Mario è Mario dicevo che i commenti di Mario sono sempre fondamentali quello ha fatto il patto con il diavolo allora diciamo che possiamo riaprire il poco scommessa per quanto riguarda il Gran Premio io punterei continuerei a puntare su Axe anche per il Gran Premio io invece ma io voglio fare proprio una scommessa così al buio io andrei su Andrejus visto il nome non lo so mi ispira simpatia quindi punto su di lui e quello che ha fatto solo quattro giri che me ne dite Brian Brian eh non lo so sono troppo pochi quattro giri per giudicare no sicuramente in post gara se ha la possibilità ci spiegherà questo questo comportamento esatto tra l'altro continuo a rimanere i box anche durante il warm up quindi è da recifrare un attimino questa questa strategia questo comportamento vedremo in gara se verremo sminti o meno e tanto anche adesso nel warm up i piloti girano appunto con a sotto la gara ovviamente possiamo anche iniziare a vedere un po' i tempi esatto a sotto i tempi girano col pieno per cui ecco anche cercavo di avere una un'idea sull'idea di quello che questo a voi di poter imprimare e quest'anno anzi parte con voi il rito l'anno scorsi le adulanze mi sembrano un altro aspetto insomma importante che sto cercando guarda un po' la velocità distinta e quando il mio andremo si è piazzato un 28.6 eh che non è male come il tempo il tempo di gara c'è buah che macchia di questa nuova Mercedes è un'arma è uscito quindi non siamo tranquilli che è presente che ha il molto molto vicino sì quelli quattro sono lì e quelli quattro connessi però potremmo arrivare molto in tempo c'è in c'è un'altra cosa che bisognerà in ogni situazione in ogni gara più incredibile di non arrivare tanto la testa essendo tirati così di cinque tempi torniamo qui il nostro progetto misterioso pronto ha ottenuto la pole in ogni gara in ogni gara in ogni gara medio veloce a sinistra e questa curva fondamentale a far quasi impieno a destra si deve riuscire a tutti i due cordi, altra curva a destra la terza la seconda che ci porterà a un'altra grossa è nata, una curva destra dell'importante sarà uscire con la macchina il più dritta possibile per avere la maggior velocità di punta alla fine del rettilineo ecco il moretto, qua si passa veramente vicino al muro e arriviamo alla variante sinistra destra più veloce, la quinta eccola altra lungo, si cura fino alla settima e si arriva all'ultima parte del tracciato, un tratto medio lento direi più che medio veloce sempre le curve a destra, dopo l'appoggio e l'ultima scelta a sinistra destra, la prima, la seconda con un rettilineo dei box che si affaccia ora è un'altra considerazione da fare, a parte che qua la strategia incide fino a un certo punto per il numero limitato di giri, ma non è un circuito dove si perde tanto tempo ai box è una corsia abbastanza corta e comoda da invoccare cosa dice Mario, è una castronata quello che ho detto? no, 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 è abbastanza rapido, è tardi in questo cosa il più violento, in questo caso bisogna stare anche per l'uscita nel box perché arrivando con la diretta in stretta con la curva subito stretta a destra non è facile la cosa abbia presato lungo e subito dopo se sbagli c'è l'ha fabbio che c'è solo due settimane appunto ma se tu esci male non è più grosso di tutto è importante avere figlio tanto AX ha visto che si stia rilassato perché sta cominciando a scendere due tempi ha sparato 1.27.7 giusto per far capire agli altri che stasera potrebbe essere la sua serata più o meno le posizioni stanno stanno rispecchiando le qualifiche attenzione ci arriva una comunicazione per la direzione gara a un leggo a quanto pare ha fatto un giro più di tutto rispetto ai 12 ma infatti il life timing non ne lo dava timo si partirà in ultima posizione e infatti tre giri a fin giro ecco lo dicevamo prima nell'interfazzo di mancia di rimanere calmi e concentrati e ulce capita un altro aspetto fondamentale che possiamo anche vedere di analizzare e soprattutto al debut qui in Inter Level è anche il giro di formazione eh sì quindi quando i piloti devono stare viaggiare a una velocità appunto medio veloce ovviamente devono necessariamente tenere una distanza di sicurezza da da chi li precede perché per evitare molti di tantalamenti e comunque episodi spiacevoli che poi possono pregivitare quella quella che è quella quindi di gara quindi e soprattutto Mario da non sottovalutare poi la sosta in piazzola in attesa del semacoro verde perché se il gruppo durante il giro di formazione rimane rimane lungo i primi piloti che arrivano in piazzola rischiano di portare il motore oltre la temperatura di lavoro quindi di avere problemi di affidabilità durante la gara insomma sono tutti aspetti a cui un pilota deve fare deve farci l'abitudine perché fanno tutti parte del del pacchetto gara non è solo come dicevo prima non è solo andare veloce quello che conta ebbe sì sicuramente tanto la sessione di warm up si è avviata alla fine quindi stiamo aspettando l'ultima raccomandazione credo della direzione gara poi ci procederà al bene ragazzi di formazione piccole informazioni tecniche faccio una piccola pausa risalviamo il file per le qualifiche e poi partiamo in gara